Ciao ragazzi, sono Francesco Coda, il CEO della PTL e del FishOK e oggi voglio parlarvi dei Moschito Fish. Beh, che cosa saranno questi pesci? Andiamo a scoprirli assieme, ok? Dai! Ok ragazzi, come dicevo, oggi volevo parlarvi di questa varietà di pesci che vengono così chiamati Moschito Fish, cioè pesci contro le mosche, volendola tradurre in italiano, tra i quali possiamo annoverare due varietà di Moschito Fish, ok? Una più comune, comunissima probabilmente tra tutti noi appassionati di acquarologia che è appunto la poicilia reticulata o guppi femmina, pesce milione, come vogliamo chiamarla. E l'altra è la Gambusia. Avere qualche esemplare di Moschito Fish chiaramente può essere molto di aiuto a debellare quelle che sono le larve di zanzara che tendenzialmente vanno a depositare le uova ovunque ristagni dell'acqua. Partiamo con quella più conosciuta. La poicilia reticulata, il guppi femmina, è un pesce molto comune negli acquari di tutti noi appassionati e si trova ovunque, diciamo, in tutti i punti vendita, fish ok facilmente. Però questo pesce ha una caratteristica. Perché viene definito anche esso Moschito Fish? Perché praticamente si nutre anche di larve di zanzara. Quindi può essere molto utile quando viene messo in piccoli acquari aperti o paludari o addirittura in piccoli stagni che si possono realizzare nel periodo primavera-estate e nelle parti più calde d'Italia anche in autunno all'aperto. In particolar modo il guppi femmina, ok, la femmina è proprio una avida mangiatrice di larve di zanzara e di piccoli crostaci che possono proliferare negli stagni o in acquari o in vasche aperte. Conosciamo tutti la poicilia reticulata, bellissimo pesce il cui maschio è molto molto più colorato per via della sua coda ormai dai mille colori che viene riprodotta in tantissime varietà contrapposto a quella che è invece la famosa mangiatrice di larve di zanzara il famoso Moschito Fish conosciuto in tutto il mondo è in realtà la gambusia, la gambusia anch'essa facente parte della famiglia delle poicilia che originariamente viene anch'essa dai paesi della Colombia, Centro America e quant'altro e adesso diffusa ormai in tutto il mondo è un pesciolino che in effetti tendenzialmente è onnivoro, mangia tutto ciò che gli capita. In realtà la gambusia pur essendo carinissima, utilissima negli stagni, nei laghetti dove abbiamo magari dei grossi carassi o delle grosse carpecoi ha anche dei contro in effetti perché la gambusia è realmente un sterminatore di tutto ciò che trova, di tutti gli esseri eventi possibili ed immaginabili addirittura arriva a mangiare crostacei, larve di zanzara, piccoli anfibi e piccoli pesci fino addirittura alla metà della dimensione del proprio corpo che arriva fino ai 4-5 centimetri. Anche la gambusia è un pesciolino che comunque può essere facilmente allevato appunto nei laghetti che chiaramente viene sicuramente apprezzato soprattutto come mosquito fish debellatore di quelle che sono le larve di zanzara. Faccio una precisazione che in realtà le zanzare, quelle più fastidiose sono le cosiddette zanzare tigre. Le zanzare tigre in effetti depongono le loro uova in sottovasi di piante in acqua estremamente stagnante invece le larve di zanzara brown, quelle marroni che sono meno infestanti, meno urticanti per l'uomo cioè non ci danno poi così fastidio perché non tendono a pizzicare in realtà sono quelle che sono presenti nei nostri laghetti e nei nostri stagni. Mi piaceva farvi un escursus e farvi conoscere la famiglia dei mosquito fish dateci voi dei suggerimenti su quelli che possono essere secondo voi quelli più efficaci tra la poesia reticulata e la gambusia quindi aspetto i vostri commenti sotto e io vi ringrazio, continuate a seguirci, spuntate la campanella e alla prossima! Grazie a tutti!